Il nostro governo ha il dovere di esigere energicamente giustizia. Prendiamo atto dei tentativi falliti del Ministero della Giustizia di ottenere concreta collaborazione da parte delle autorità egiziane. E siamo amareggiati e indignati dalla risposta della Procura del regime dei Assisi, che continua a farsi beffe delle nostre istituzioni e del nostro sistema di diritto. Chiediamo che il Presidente Draghi, condividendo la nostra indignazione, pretenda senza sé e senza ma l'elezione di domicilio dei quattro imputati dal Presidente Assisi e ci consenta lo svolgimento del processo per ottenere giustizia riguardo il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio. Grazie. Grazie mille. Il procedimento è tecnicamente sospeso, però c'è già una nuova udienza fissata al 10 ottobre e nel frattempo verranno espletate nuove ricerche e il 10 ottobre verrà anche sentito in aula un funzionario del Ministero della Giustizia affinché riferisca sulle attività nel frattempo intervenute. In questi tre mesi sembrerebbe che il Ministero della Giustizia italiana si sia attivato, ma non c'è stata collaborazione da parte dell'Egitto. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.